Salve a tutti, come avrete avuto modo di vedere ci troviamo a casa mia nel famosissimo angolo del paesiello visto che tante volte mi avete chiesto ma che cosa hai tu nel tuo antro? Faccio una piccola premessa, il mio antro raccoglie qualcosa tipo 18 anni di hobby realizzato circa nel 2000 con i primi modelli della Di Agostini e piano piano ho accumulato all'interno di casa mia del mio piccolo antro tutta una serie di chicche, di rarità, di curiosità sull'universo di Warhammer Games Workshop che quest'oggi mi piacerebbe condividere con voi Prima di tutto inizierei con un modello che mi è particolarmente a cuore tutti noi infatti, tutti quelli che praticano il nostro hobby hanno un pezzo nella loro collezione che considerano il pezzo preferito, il primo pezzo lì là dove tutto è cominciato il mio primo pezzo è questo Parliamo di un modello di arciere bretoniano del 1992, quindi un modello estremamente datato che la Di Agostini distribuì come primo modello delle uscite in edicola che per la prima volta mi catapultarono nel mondo di Warhammer Come vedete il modello non è dipinto ai massimi livelli tuttavia conserva per me un particolare valore affettivo perché è appunto il primo pezzo che ha dato il via di una collezione che oggi comprende migliaia di modelli e un sacco di chicche in realtà Potete vedere qui su questo tavolo una piccola selezione di quelli che sono i modelli della mia collezione che ho accumulato nel corso degli anni appartenenti ai vari eserciti che ho collezionato Ci sono eserciti dai cuti sparati, l'Arieldar, i Guerri del Caos, le Sole del Silenzio, l'Impero con il famoso Kurt Elborg e i nuovi horrook di Warhammer Age of Sigmar Diciamo che ognuno di questi modelli rappresenta un pezzo della mia evoluzione dal punto di vista del lobby e diciamo che tra questi ci sono anche pezzi abbastanza rari ad esempio il modello di Arcaon a piedi che è un modello che risale al 2004 quando nella piena campagna di Tempesta del Caos il mondo di Warhammer tratteneva il respiro in quanto il Signore della Guerra Arcaon era sceso con tutte le forze del mondo di Warhammer e cercava di distruggere l'impero di Sigmar Un altro modello al quale sono molto affezionato è lo spettrocantone degli Eldar che era una miniatura in edizione limitata che Games Workshop regalava a chi si abbonava al proprio White Wars alla rivista ufficiale di Games Workshop e che è stato uno dei primi pezzi in edizione limitata che ho iniziato a collezionare poi ce ne sono aggiunti tanti altri che alcuni sono conservati nei miei archivi e molti sono nel mio altro ma adesso passiamo a qualcosa di più corposo qualcosa di più sostanzioso della collezione del mio altro vorrei farvi vedere una piccola rarità che è il manuale in edizione limitata dell'ottava edizione di Warhammer Fantasy Battle questo qui è un libro molto bello che ha una copertina rigida, pagine in pergamena e racconta, non so se riuscite a vederlo quanto possa essere bellissimo questo libro questo libro racconta tutta l'evoluzione del mondo di Warhammer le varie regole, il background di tutti gli eserciti su una carta molto pesante e pergamenata che è un piacere per gli occhi ma anche, questo non riesco a descriverlo al tatto al tatto e soprattutto anche all'olfatto a quel sapore di libro antico a lui se metti il naso dentro al libro pesa anche discretamente tanto perché non va in palestra perché non va in palestra sicuramente ed è un oggetto che è molto ambito tra i collezionisti è uscito in edizione limitata di circa 500 copie una di queste in tutto il mondo adesso è a casa mia gli obisti più affezionati, ricorderanno con una lacrimuccia questa rivista è uscita in Italia nel settembre del 1997 parliamo di anni e anni fa ed è stato diciamo il primo lancio sul mercato italiano della rivista di Games Workshop all'interno avevano addirittura un editiccio in cartoncino che potevi assemblare e utilizzare nelle tue partite quando ancora tante cose non erano fornite da Games Workshop per un'azienda in espansione ma ancora non aveva tutte le bellissime cose che ci sono oggi nei vari negozi ufficiali GB e parlava anche di Brettonia da una prima panoramica del mondo di Warhammer e di tutte le cose belle che poi affascinarono il 12enne me all'inizio ad iniziare questo magnifico hobby un altro pezzo che vorrei farvi vedere è appunto solo parte della mia collezione dei vari personaggi speciali che uscirono nel corso degli anni ad esempio questo modellino Egrim Van Orstman sul suo drago Baudros è uno dei modelli più belli dell'esercito del caos questo modello bellissimo è stato il primo modello di generale del caos interamente sul drago il drago è interamente in metallo pesa tantissimo ed è uno dei modelli più belli della mia collezione che per chi si ricorderà aveva anche un ruolo molto importante nel mondo di Warhammer ma Warhammer ancora non c'era era il modello più grande che gli eserciti del caos potessero schierare Ancora, camminando eserciti uno dei modelli che adesso mi piace di più ma che quando è uscito non riuscivo a sopportare è il modello del Leech King Arkan lo stesso che adesso vedete in Europa al suo destriero scheletrico quando una volta viaggiava su un carro sulla prima quadriga del mondo di Warhammer io ricordo quando l'ho visto per la prima volta con questa cozzaglia di colori di aver pensato tra tutto questo modello oggi a distanza di anni riguardando la scultura riguardando il design di questo personaggio mi accordo che è un qualcosa che tutti i nostalgici del mondo di Warhammer come tutti i nostalgici del mondo di Warhammer sanno è un qualcosa di profondamente intrinseco dentro di noi non riesco a fare a meno di apprezzare quanto questo modello in realtà fosse bello la chicca della mia collezione sono appunto i modelli dei mercenari nel regno di Tilea ci sono molti reggimenti di avventura e Games Workshop aveva prodotto nel corso degli anni tutta una serie di modelli dedicati ai mercenari questo ad esempio è una compagnia di Alcatari che nel corso del tempo hanno raggiunto dei valori anche delle quotazioni di mercato incredibilmente elevate e mi fa piacere ricordare che io ho un intero esercito di mercenari e che adesso sono lì a testa di essere dipinti con un sacco di pezzi che sono parte della mia collezione a cui sono particolarmente legato diciamo che Games Workshop nel corso della sua storia oltre appunto queste chicche che riprendono appunto la situazione dei mercenari piuttosto che personaggi con nome che adesso sono fuori produzione ha creato per tutta una serie di eventi altri modelli in dizione limitata che adesso sono il bando di collezionisti un pochino come me ma sospetto come tutti quanti quelli che praticano il nostro hobby l'idea di poter dire o un modello che pochi altri hanno al mondo è un qualcosa secondo me che accumula tutti quelli che praticano il nostro hobby chi più o chi meno io vorrei farvi vedere due modelli di Capitani Space Marine che questi modelli sono stati rilasciati per quanto riguarda l'uscita del nuovo sito internet ed erano modelli di Capitani Space Marine molto molto belli che sono stati praticamente disponibili per pochissimo tempo e oggi sono particolarmente ricercati sul mercato e mi fa piacere averli nella mia collezione che appunto segnano delle tappe importanti dell'evoluzione del nostro hobby un'altra scatola alla quale sono molto legata legata ovviamente è quella di Warhammer Fantasy Button della sesta edizione questa scatola è dei primi anni 2000 e ha rappresentato la mia prima scatola del mondo di Warhammer praticamente ero un ragazzino ho appena fatto gli esami di terza media e mi regalarono come ricompensa per il buon esito degli esami questa bellissima scatola che nel suo interno conteneva il regolamento e due eserciti di impero e di orchi non so che emozione abbiate potuto provare voi quando avete aperto la vostra prima scatola del mondo di Warhammer ma per me è stato un qualcosa di bellissimo perché avevo davanti tantissime all'epoca per me tantissimi modellini che potevo assemblare e colorare come più mi piaceva ed è stata una cosa bellissima mettersi lì quell'estate ad assemblare e colorare i miei primi modellini con scarsissimi risultati però li conservo ancora nella mia collezione ed è stato un piacere a oggi per farla vedere di andare a riprendere questa scatola di Warhammer l'ultima chicca che invece adesso vorrei farvi vedere è qualcosa che i molti appassionati del mondo di Warhammer considerano un pochino il sacro graal del mondo di Warhammer infatti nel 1988 il suo workshop lanciava sul mercato questa scatola qui la scatola di HeroQuest HeroQuest come molti dei letterari del lobby ricorderanno è un po' l'antesimiano di quello che è il mondo di Warhammer come noi lo conosciamo adesso ed era un gioco da tavolo dove potevi assumere il ruolo di un pro di avventuriero all'interno di un sotterraneo e potevi completare alcune missioni per poter arrivare a sconfiggere i servi del caos e diventare appunto l'eroe di HeroQuest ed è bellissimo considerare come tanti dei personaggi che poi abiteranno il mondo di Warhammer nascono proprio da questa scatola ad esempio potevi impersonare quattro personaggi un barbaro umano un elfo un nano e un mago il barbaro umano si chiamava Sigmar che è lo stesso Sigmar che poi è stato inserito nelle scatole successive del mondo di Warhammer quando ancora non era il dio re quando ancora non era il dio re che poi adesso governa l'universo di Warhammer e di Sigmar quindi la prima apparizione ufficiale di Sigmar risale nel 1988 in questo gioco in scatola anche il cattivo il grande mago Morcar nasce come modello di HeroQuest e poi diventerà il primo dominatore della fine dei tempi soltanto con l'arrivo del libro dell'esercito delle ore del caos già nel 2000 quindi è bellissimo notare come Games Workshop piano piano per chi è appassionato riesce a cogliere un filo conduttore tra tutto quello che Games Workshop ha fatto nel suo passato fino adesso a quello che c'è nell'immediato anche nell'immediato futuro con le nuove uscite e mi fa piacere come collezionista poter dire di aver contribuito di aver iniziato piano piano ad accumulare parte di questo di questo mondo bellissimo che è il mondo del modellismo di Warhammer io vi ringrazio dell'attenzione che avete avuto per questa breve puntata spero che quello che vi ho fatto vedere la storia del mondo di Warhammer attraverso questi oggetti un pochino iconici vi sia piaciuta se avete domande o se il video vi è piaciuto fatecelo sapere mettete mi piace sul video su YouTube o una pagina mi piace alla nostra pagina Facebook e mi raccomando scrivete e fateci sapere che cosa ne pensate se volete qualche altra chicca dai miei archivi o se il video vi è piaciuto volete avete qualche curiosità mi raccomando fatecelo sapere grazie alla prossima puntata aiaiaiaiai Aiaiai! Due. Ma non sono mai nel 188. Lo rendi come da mirate prima di... Ti leggo. Io lo rimanderei al prossimo. Debito. Debito? Sì. Quando puoi fare il figo ai quiz vi rendete conto che in realtà è... Pappa molla. Non è vero, non è vero. Sono tutte figlie e metti i giochi. Questo è registrato, eh? Così possiamo far vedere quanto non ne sa queste cose. Mi sembra sia 88 però... Cerca su Google, no? Cercheremo su Google. No, cerchi adesso su Google. Cerca adesso su Google.